Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con un nuovo video che non avete mai visto sul canale, ovvero cosa ho comprato dal mio ultimo viaggio. Nello specifico oggi vi faccio vedere cosa ho preso dal JapoTool Reddits, ovvero dal viaggio in Giappone che vi ho portato una serie qua sul canale che è appena finita, voi ora che state vedendo questo video. Io lo sto registrando esattamente il giorno dopo che sono tornato dal Giappone, quindi sono un attimo ancora scombussolato, ma ci tengo a registrarlo subito perché così mi ricordo bene cosa avevo preso e non riesco di spargere gli oggetti in giro per la camera e poi dimenticarmene in giro. Detto questo, prima di iniziare col video direi che possiamo andare alla sigla. Ok, allora, per farvi un'idea, praticamente ho questa busta qua della Tamiwa che è tipo enorme, rispetto a me, potete vederlo, ed è piena piena di roba. Diciamo che la maggior parte degli acquisti che ho fatto sono appunto inerenti al mondo delle mini 4WD, ovvero delle auto con le quali gareggio. Allora, la prima cosa che ho preso è stata una cosa che mi sarà utile per quando sarò in università. Infatti in Giappone vanno molto di moda per i pranzi quando si mangia fuori le bento box, ovvero queste scatoline qua, nel quale praticamente si mette il cibo e sono a più piani, quindi si può suddividere il cibo in vari contenitori. E poi dopo sono a chiusura stagna. Io la voglio usare per quando sarò in università, perché quest'anno mi sono arraggiato con un Tupperware, però non essendo fatta apposta per trasportare il cibo in giro, ogni tanto mi dava dei problemi, tipo usciva l'olio o schifezze varie, quindi ho preferito prendere un'apposita da Giappone. Ok, la seconda cosa che ho preso è stata un action figure. Questa qua è l'action figure di Kaito, di Project Mirai. E sostanzialmente non è un anime o un manga o quello che è, ma nascono come vocaloid, ovvero voci robotizzate che venivano utilizzate per creare canzoni. La più famosa di questa serie è Miko Atsune. E nello specifico queste qua sono prodotte dalla Good Smile Company. E nello specifico questa qua è la serie delle Nendoroid. Avevo già preso Miko Atsune quando ero venuto in Giappone la prima volta, e quindi nella seconda volta che sono venuto ho voluto prendere Kaito, che è il mio secondo personaggio preferito. Sono in versione Chibi, ovvero la versione più piccolina, e praticamente permettono di personalizzare il personaggio dando un sacco di accessori. Poi, fra i vari posti che abbiamo visitato, sono riuscito a fare un salto al negozio della Ghibli, ovvero dello studio Ghibli, quello che ha per esempio creato il mio vicino Totoro, Pogno sulla scogliera. Sono comunque film che a me sono un sacco piaciuti, e già la prima volta che c'era andato avevo preso Totoro un pochino più grandino. Dato che però adesso volevo qualcosa da potermi attaccare allo zaino, come ricordo di questo viaggio in Giappone, ho preso questo mini Totoro, che non verrà mai, poi mai messo a fuoco dalla telecamera, come al solito nella vita, e è piccolino, e ha questo gancino per agganciare allo zaino. È molto molto piccolino, però ha fatto veramente tanto tanto bene. Fate conto che è tipo alto poco meno di una mia falange del pollice, quindi veramente piccolino. Però era carino, puccioso, e quindi l'ho voluto prendere. Un'altra cosa che mi sono portato a casa dal Giappone è stata questa serie di Coca-Cola, che sì, sono Coca-Cola normalissime, al momento è vuota perché l'ho bevuta per venire in qua, e sono però fatte in alluminio, e sono venite delle bottigliette con le varie immagini raffigurative. Io ho preso quella di Osaka, che è stata una delle due città che siamo andati a visitare, perché abbiamo visitato appunto Tokyo e Osaka, e avete visto la serie qua sul canale, quindi se non l'avete vista c'è la playlist con tutti i video, quindi andatevelo a vedere. Ed è che mi piaceva di più quella di Osaka rispetto a quella di Tokyo, quindi ho deciso di prenderla. È molto carina, è un formato che di sicuro non si trova in giro. E appunto c'è scritto che è Special Edition di Osaka, e praticamente c'è il castello appunto di Osaka e altri posti. Ok, ora, ho preso una cosa che per molti potrebbe sembrare strana, ma vi giuro che c'è un motivo per il quale l'ho prese. Ovvero ho preso un sacco, ma proprio un sacco, ma proprio un sacco un sacco di mascherine. Ok, allora, smetto di muoverle perché fanno rumore. Queste qua sono in carta, mentre invece queste sono in stoffa. Perché ho preso tutte queste mascherine, che fra parentesi, queste qua le ho già aperte perché le sto usando una ora, quindi un attimo che me la metto. Ok. Cioè, vedete, praticamente sono queste mascherine qua che sono in stoffa, è una stoffa tipo molto spugnosa, e non dà un fastidio in bocca rispetto a quelle di carta, e soprattutto non danno neanche troppi problemi a noi persone con gli occhiali. Cioè, ovvio, un po' si appannano gli occhiali, però alla fine non danno neanche troppo fastidio. E meglio se me li tolgo. Comunque, perché ho deciso di prendermi tutte su queste mascherine? Perché comunque, per vari motivi, dovrò portarle. Ovvero, nel momento in cui ne avrò bisogno, comunque ci saranno giornate nel quale dovrò ottenermi la mascherina. E quindi, semplicemente, ho deciso di prendermi queste qua in stoffa, perché sono fatta un pochino meglio rispetto a quelle in carta che troviamo in Italia. Sono più comode. Se, ad esempio, ci devo dormire alla notte, non rischio che si bagnino e si sciolgano, come invece mi succedeva con quelle in carta. E quindi, niente. Dato che comunque in Giappone vanno molto di moda, ho preferito prendermi queste qua. Sono parecchio comode, mi piacciono. E spero che andandoci in giro non sembrerò un cretino completo, però... Oh, io ne ho bisogno, quindi alla fine le ho prese. E magari, se volete sapere il perché, dovrò portarmi le mascherine. E scrivetemelo nei commenti che ci faccio un video a riguardo. E diciamo che non ho troppo piacere di parlarne così a caso in un video nel quale non c'entra niente come un coso comprato in Giappone. Magari fatelo sapere questo nei commenti che ci farò un video più approfondito sopra. Ok, adesso ci toglie questa mascherina qua perché anche basta. Comunque, se le volete prendere, queste qua le sono riuscite a trovare soltanto al combini, ovvero dei negozi aperti 24 ore che sono tipo dei mini market. E non specifico in quello dell'aeroporto. Negli altri non li ho trovati, non chiedetemi perché. Queste qua invece in carta, che sono un pochino più monouso, diciamo. Le ho prese da Daiso, che appunto è quel negozio da 100 yen che vi dicevo prima. E le avevo prese perché comunque se ci sono giornate nel quale so che magari devo fare lavori che si possono sporcare, metto queste. Tipo non so se devo andare a montare qualcosa, dei mobili o così, che se comunque ci può essere qualcosa che mi dà fastidio, metto quelle lì. E così anche se si sporcono, poi le prendo e le butto via senza troppi problemi. Invece quelle in stoffa tendo ad usarle nei momenti un pochino più di vita quotidiana, quando comunque non dovrebbero sporcarsi. Così che non ne spreco acquintati tipi industriali. Ora passiamo alla parte un pochino più specifica del modo delle mini 4WD. Quindi sappiate che parlerò solo di mini 4WD ora, quindi se non vi piacciono, schippate verso la fine, ok? Allora, prima di tutto ho preso 4 auto che in Italia non si trovano più troppo facilmente, ma sono tra le mie preferite. Nello specifico ho preso la Knacktoll e Knacktoll Breaker Blue Special, quindi è la versione speciale di quest'auto qua, e mi piaceva perché è tutta azzurra. Poi dopo ho preso la Shotting Star, che è l'auto numero 3 del Dash Noi Okuru, che è stato il primo anime sulle mini 4WD. Ho già le altre due auto, mi mancava la 3, quindi l'ho presa. E poi dopo, invece del manga e anime Let's and Go sulle ali del turbo, qua in Italia da noi, ho preso la Cyclone Magnum, che è l'ennesima versione della della originale Magnum Saber, e la corrispettiva del fratello, la Hurricane Sonic. E entrambe sono auto comunque abbastanza rare, che in Italia non so neanche se le hanno importate, sinceramente. e però, dato che comunque nella mia collezione ce le ho già tutte, dalla prima prodotta andando avanti, ho deciso di prendere anche questi modelli, perché così ce li ho veramente tutte. Ora passiamo agli accessori abbrite che ho comprato per le auto. Le ho prese una valangata, cioè, per intenderci, questo qua è soltanto una piccola parte, perché veramente lì il prezzo era veramente molto scontato. Ora, io sono il primo a dire che bisogna comprare nei negozi italiani, perché sennò l'economia non va avanti, e anche se costano un po' di più, io compro sempre dal mio negozio qua a Bologna, perché comunque è quello che mi organizza le gare e lo devo supportare. ciò nonostante, dato che comunque in Giappone hanno ancora disponibili gli accessori più rari, che in Italia non troviamo, ho deciso anche di comprare degli accessori rari, così che comunque da tenermeli in collezione. Di sicuro non si usa ne in gara, però comunque mi piace averceli. Ok, vi faccio una scalellata veloce di quello che ho comprato, anche se a molti non interesserà, quindi oggettivamente tendo a stringere, e però, niente, vi faccio vedere un attimo gli accessori che ho preso. Allora, la prima cosa che ho comprato è stato questa qua, il Minimu Control di Catcher, praticamente serve per serve per raccogliere la macchina quando è in pista, ma essendo fatto in una plastichina molto leggera si può usare anche ritagliandolo per fare altri accessori per le auto. Poi ho comprato vari set di ruote con differenziale integrato, sono pezzi che non si usano mai in gara, perché comunque tendono a far perdere trazione alla Mini 4WD, quindi rallentano, però comunque, dato che sono particolari e sono molto studiati all'interno, tipo c'erano gli ingranaggini che ruotano, e poi dopo ho comprato un set che permette di fare lo set anteriore delle Mini 4WD e oggettivamente non si usa mai neanche questo, perché le Mini 4WD andando in pista si arrangiano da sola a curvare, però appunto, essendo che è un set molto raro da avere, mi piaceva e quindi l'ho preso. Poi ho comprato una valanga di motori, ve li faccio vedere un po' così velocemente, più che altro per il fatto che costavano veramente poco, tipo un euro a motore, mentre in Italia li paghiamo anche 4-5 euro, e più che altro volevo un attimo averne qualcuno in più, perché li sto praticamente bruciando tutti quelli che ho, perché stanno arrivando a fine termine, dopo tot di gare, e dato che sono motori che ho utilizzato già in 4 campionati e che mi hanno sempre portato comunque a podio, però comunque stanno facendo la loro fine, ho deciso di farmi un po' di scorta. Poi, cos'altro ho comprato? Ho comprato una caterba di fibre in carbonio, veramente, veramente tante, sempre per il solito ragionamento che costavano di meno e io purtroppo ne ho un sacco bisogno, perché comunque queste qua sono veramente ottime per gareggiare, perché rendono la macchina veramente più stabile e rigida rispetto a quelle fibre in vetro. Quindi sì, ne ho comprato un bel po' così che ho la scorta. Ok, questo video direi che si può concludere qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordate di lasciare un bel like. Se non vi è piaciuto mettete dislike, però magari scrivetemi qua sotto nei commenti cosa potrei migliorare nel prossimo video. Vi ricordo inoltre che mi trovate sia su Instagram che su Facebook. Link qua sotto in descrizione. Troverete su questi social anche tutte le foto del Giappone. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale che mi farebbe veramente tanto tanto piacere e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!